il piatto delle cappesante credo sia quello che in questo momento mi rappresenta di più è un po' quello che ricorda il periodo passato a parigi da ducasse una salsa ovviamente francese la parte proprio più interessante di questo piatto è questa riduzione di scalogno quindi la romagna sempre protagonista nei nostri piatti nella nostra cucina è un piatto in cui la protagonista è proprio la salsa quindi l'abbiniamo questa cappa santa quindi partiamo dalla materia prima ottima è una salsa al burro sicuramente con questa infusione di ostica che l'alleggerisce molto e poi le vongole veraci che servono a completare il piatto quindi questo senso iodato questo senso di fresco con una salsa comunque che si fa notare insomma è proprio la protagonista del piatto grazie a tutti